Di nuovo buongiorno, seconda parte di Mattino 6 con le pagine del messaggero. Andiamo subito a vedere pendolari in ansia, bus, guerra del terminal, la stazione Tiburtina è di nuovo in pericolo. Il comune di Roma avvia il progetto per il trasferimento ad Anagnina. Il governatore Marsiglio scrive alla Raggi, è una soluzione per noi inaccettabile. Poi ancora la stessa operazione fu bloccata un anno fa riunendo il Consiglio Comunale dell'Aquila nel piazzale dell'autostazione. Poi sanità, visite ed esami, un taglio alle liste d'attesa. Proseguiamo con le pagine di Pescara. Scambio, Regione, Università, il grande business con il trasferimento dell'Ateneo all'Excofa. Viale Pindaro andrebbe a Marsiglio, una svolta per l'imprenditoria locale. Progetto avanguardista che risolverebbe tanti problemi di spazio, dice Fabrizio Bernardini, dirigente regionale presente alla riunione. Ricco investimento che la città non può perdere, il centro congressi vero punto di forza, dice il sindaco Masci. E poi c'è la replica del centro-sinistra, il fronte del no, nessun vantaggio alla città, è un bel danno al turismo. È un pasticcio, l'opposizione di centro-sinistra contesta il piano in minaccia di non votare il DUP. In taglio basso, spaz, senza contratto, locali al MIBE. Il primo cittadino conferma la volontà di accogliere il liceo nell'ex scuola di Villa Fabio, al posto dell'associazione. Proseguiamo, siamo alla cronaca, dà fuoco alla cella e picchia gli agenti. Notte d'inferno a San Donato, un detenuto in crisi di astinenza provoca l'incendio tra i soccorritori, quattro persone intossicate, la rabbia del personale della polizia penitenziaria, carcere superaffollato e pieno di elementi con problemi psichiatrici. Situazione esplosiva con 410 presenze rispetto alle 250 previste, frequenti i tentativi di fare entrare la droga. E poi biblioteca al posto della misericordia, il servizio di 118 trasferito a Viale Primovere per dare spazio all'università in via Tirino. Andiamo avanti, Rigopiano lo sciopero blocca l'udienza, l'astenzione degli avvocati fa slittare l'appuntamento di oggi. Di giro all'amo protesta giusta contro il decreto spazza corrotti, il giallo della telefonata scomparsa finisce in archivio l'esposto di uno dei difensori contro il colonnello Anna Maria Angelozzi. Per il GIP nessuna responsabilità anche nei confronti del consulente per il piano Valanghe, Igor Chiambretti. Allora si parla di questo rinvio dell'udienza per il processo Rigopiano al 29 di novembre, il tutto per lo sciopero. Cerchiamo di capire maggiormente i motivi di questo sciopero attraverso questo servizio. Gioacchino Genchi, avvocato di grido, esperto informatico, è stato vicequestore a Palermo e ha collaborato con magistrati del calibro di Giovanni Falcone e Luigi De Magistris. Le sue indagini sono state usate per la strage di Via D'Amelio in cui perse la vita, tra gli altri, Paolo Borsellino, è stato accusato da Silvio Berlusconi di un presunto scandalo sulle intercettazioni, ma scagionato totalmente dai giudici del riesame e il suo archivio segreto è stato dissequestrato. Avvocato tra i più ricercati d'Italia, Genchi, in concomitanza con lo sciopero dei penalisti, ha detto la sua sul separazione delle carriere, termini della prescrizione che dal 1 gennaio 2020 si blocca dopo il primo grado di giudizio. La pena mira alla rieducazione del condannato, non può rappresentare una tortura, non si può costringere un soggetto a godere di un beneficio a condizione che possa rendere delle dichiarazioni dopo 20, 25, 30 anni, peraltro quando quelle dichiarazioni non servono a nulla. La collaborazione va premiata quando serve a accertare dei reati che sono stati commessi e comporta la dissociazione del soggetto che è attivo nell'organizzazione mafiosa. Parlando sempre di giustizia, nel 2020 entra in vigore la nuova regolamentazione per le prescrizioni nei processi. E veda anche questo secondo me è un qualcosa in cui il luogo comune, la disinformazione, se vogliamo anche l'ignoranza, anche da parte di alcuni addetti ai lavori, siccome i processi durano tanto aboliamo la prescrizione e li facciamo durare a vita. No, la giustizia è un qualcosa che deve arrivare immediatamente, subito dopo il fatto. Anche questa è una vera e propria vendetta nei confronti di soggetti che vengono tenuti per tutta la vita con la clava, con il peso sulla testa di un processo in corso, con dei costi che peraltro sono anche impressionanti. Proseguiamo, siamo sulle pagine dell'Aquila, del messaggero Bazzano, un polo fieristico al posto del progetto casa. È approvato lo studio per realizzare i padiglioni al posto degli attuali alloggi. La strada è quella del project financing, chi realizzerà otterrà anche la gestione. L'area è stata selezionata per la vicinanza superstrada, autostrada e tratta ferroviaria. Proseguiamo, ancora summit in tribunale, siamo ad Avezzano. Summit in tribunale contro il taglio. Gli avvocati in assemblea dibattono le proposte da portare avanti per evitare l'addio al presidio. La reprimenda di Colucci, lo speciale commissione parlamentare, ha promesso che chiederà al governo una proroga fino a settembre 2013. E poi ancora in taglio medio a Sulmona, studentessa schiacciata contro la sua autovettura, episodio preoccupante fuori il dicevo artistico dopo un infelice parcheggio. Siamo ora sulle pagine di Chieti. Politica, uno stop alla Lega da Fratelli d'Italia. Sul sindaco, nessuna prelazione. Da Carla Di Biase e Antonio Tavani, paletti per gli alleati. Prima un programma condiviso e una coalizione unita. Due nuovi ingressi fra i meloniani. Sull'arrivo di Di Primio ci sono condizioni precise. Deve mettersi a disposizione. E poi ancora in taglio medio, per la cronaca perseguita, la ex scatta la misura cautelare. Un uomo campano di 42 anni colpito dal divieto di avvicinamento alla donna. Un inferno durato diversi mesi. In taglio basso, Marrucino, in cartellone, due anteprime nazionali. L'hamlet del TSA e l'omaggio a Flaiano, gli spettacoli di punta, sconto e trasporto per gli abbonati di altri teatri. In questo caso siamo in provincia di Chieti, a Cupello. Inadeguati i controlli arta sul rogo. Si allunga l'attesa per le analisi della Biosan sui dati dell'aria dopo l'incendio e la discarica del Civeta a Cupello. Ed è polemica. De Sanctis e il Comitato Difesa del Comprensorio Bastese denunciano nessun campionamento sulle polveri. Rischio emergenza, nuovi interrogativi sulla durata dell'impianto dopo le dichiarazioni di Marco Vecchio. In taglio medio, Pupillo, sindaci e avvocati uniti per salvare il tribunale a Lanciano. Andiamo ora sulle pagine di Teramo. Intanto la cronaca muore dopo l'intervento alla gola. Indagati 15 tra medici e infermieri. Asul, 17 anni, stroncata da emorragia. Era stata sottoposta a tracheotomia. La ragazza operata nelle Marche, ma il decesso è avvenuto a Pinedo. Delicata inchiesta della Procura che ha già sottoposto il corpo della ragazza ad autopsia ed emesso gli avvisi. E poi ancora siamo a Giulianova. Ricorso ritirato. Il caso in Procura. Tribuiani, la causa era molto costosa e non avrebbe portato al riconteggio di voti. Per questo ho rinunciato. Arboretti pronto a presentare un esposto alla magistratura. Costantini, nessuna pressione. Presto la designazione al BIM. Poi ancora le parole di Deramo. La Lega non ha dato parere positivo. Va fatta una verifica su alcune operazioni di spoglio dei voti. Vediamo il servizio del Tg6. L'ho fatto per il bene di Giulianova. Così il consigliere comunale della Lega Pietro Tribuiani motiva il ritiro del ricorso al TAR per la riconta delle schede che nella scorsa tornata elettorale di primavera hanno assegnato per un soffio soli 59 voti la vittoria a Ivan Costantini, oggi sindaco. Il TAR dell'Aquila aveva accolto parzialmente il ricorso del candidato della coalizione di centrodestra ordinando di verificare solo i verbali di quattro sezioni del ballottaggio sui 23 totali e 10 sezioni del primo turno, il tutto per presunte irregolarità. Di fatto, spiega in un comunicato Tribuiani, escludendo ogni possibilità di ricontare le schede e quindi di ribaltare il risultato elettorale. Dunque, continua l'attuale consigliere comunale, l'interesse a procedere è venuto meno in un procedimento tra l'altro molto oneroso e attraverso il quale l'unico risultato possibile in caso di irregolarità sarebbe stato l'annullamento delle elezioni con il conseguente ritorno al voto non prima però di essere passati da un nuovo commissariamento del Comune nell'amore di eventuali ricorsi al Consiglio di Stato da parte del sindaco Costantini. Tribuiani, infine, smentisce qualsiasi tipo di accordo con il sindaco e con la sua coalizione civica di centrodestra cosa che peraltro è stata fermamente smentita anche dal commissario regionale della Lega Luigi Deramo. Possiamo proseguire, siamo sulle pagine della città. Pagina 3, tre nuove risonanze per la ASL di Teramo. Prime misure già messe in campo delle aziende sanitarie secondo il piano varato dell'assessore Veri. Entro il 14 novembre tutte le ASL provvederanno a rimettere formalmente una relazione puntuale sulle misure adottate. Pagina 5, siamo alla cronaca di Teramo. Rogo Doloso distrugge il deposito di fiamme alla fattoria didattica di Domenico Antonio a Ponzano. Fumo in città, c'è la mano di un incendiario. E poi in basso, ricostruzione, staremo col fiato sul collo del governo. Le parole del Presidente della Regione Marsiglio, le norme inserite nel decreto sisma potevano essere inserite nello sblocca cantieri. E poi ancora, restiamo a Teramo, una banca del sud è un sogno possibile. Il Presidente di Banca Popolare di Bari, Gianvito Giannelli, conferma l'obiettivo al convegno all'Unité. Qui alcuni scatti appunto del convegno e anche una foto degli studenti con il Professor Brancadoro. Andiamo avanti, siamo a pagina 9, auto sconquassa il ponte del parco fluviale. Signora alla guida di una utilitaria attraversa il fiume nell'area pedonale e danneggia le assi in legno. C'è un precedente, nell'estate del 2013, un mezzo della Teama ha distrutto il ponte di Mattoni al centro del parco del Vezola. E poi ancora la cronaca, papà disperato, non toglietemi mio figlio. Il giudice ha disposto il collocamento del ragazzino in una struttura protetta. Ha una famiglia che lo ama, vuole stare con noi. Pagina 11, impresa la chiave è internazionalizzare. Al roadshow dell'Ampita Pescara la ballone porta l'esempio. Teramo-Cina, pagina 12, degrado a San Nicolò, cimitero imbrattato dal guano di Piccione. I residenti della frazione chiedono un intervento di pulizia per ripristinare le condizioni igienico-sanitarie. Sono continue le segnalazioni da parte dei visitatori agli uffici della Teama a Cartecchio, eppure per il momento non c'è stato alcun intervento di miglioramento. Pagina 17, lotta all'erosione, Danuntis spegne le polemiche tra territori. Il sottosegretario regionale dice che tutti gli attori saranno coinvolti nella programmazione per la stagione. I tecnici offrono le più opportune soluzioni, ma sarà poi la politica ad assumersi la responsabilità delle scelte. Mai come ora la regione ha mostrato di essere vicina a questi territori, territori in particolare della vibrata. Andiamo ora su pagina 18. Tortoretani tenuti all'oscuro dei lavori per il nuovo metanodotto. La denuncia del gruppo impegno civico sul progetto di Snam Rete Gas. Il gruppo si schiera contro l'opera e contro il tracciato scelto, chiedendo l'intervento del sindaco. E poi ancora a Giulianova la Lega si spacca sul ritiro del ricorso al Tar. Ed erano critico per la scelta di Tribuiani, dimostrazione che forse era meglio non rivolgersi ai giudici. Anche con l'eventuale riconteggio non sarebbe cambiato l'esito del voto con la vittoria di Costantini. E poi ancora, sempre a Giulianova, via al progetto per riqualificare le aree verdi. L'annuncio dell'assessore Federico Taralli, primo intervento sul manto erboso del Parco Franchi. Gli interventi sono stati programmati anche in base alle segnalazioni dei cittadini giuliesi. Apriamo ora la pagina dello sport. Siamo sul finire di questa edizione di mattino 6. Sulla città si parla ovviamente di Teramo dopo la vittoria nel turno infrasettimanale di mercoledì sul campo della Virtus Francavilla. Diavolo dagli 11 metri ci pensa Martignago dopo gli errori di Bombaggi e Magnaghi. Primo penalti realizzato, bello vincere partite sporche. Domenica si chiude elettrittico al Bonolis. Domenica pomeriggio il Teramo può fare filotto e centrare il terzo successo di fila dopo aver battuto Paganese e Virtus Francavilla per tornare nella zona playoff della classifica. E poi in taglio basso per la palla a mano di Marcello. Un onore allenarmi con questi ragazzi. Il portierone Teramano traccia un bilancio dell'inizio di stagione in campionato della Lions. Andiamo a vedere le testate nazionali, sportive e poi torniamo su quelle locali. Siamo dunque sul Corriere dello Sport che apre in questo modo inaccettabile. Rigore scandalo, Roma vittima del calcio senza bar. Gialorossi avanti con Zagnolo raggiunti dal Borussia al 95esimo. Smolling respinge con il volto ma l'arbitro assegna il penalti Fonseca Furibondo. E poi a surda Lazio fallisce il 2-0 e poi tracolla. Sconfitta 2-1 in casa del Celtic. Vediamo sotto la testata un altro Ronaldo dal CDA della Juve. Una indiscrezione che fa sognare un colpo in arrivo. E poi Agnelli a Conte, due stoccate al veleno. In basso è una decisione storica, dice Infantino mondiale per club. Via in Cina nel 2021. La prima pagina della Gazzetta dello Sport che apre così di bala Juve a vita. Se Paolo facesse qui un percorso importante non sarei sorpreso. Io gioco ancora due anni, mi ritiro. Ma prima la Champions sono le parole del difensore della Juventus. Giorgio Chiellini, parole rilasciate. Nell'intervista a Walter Veltroni. Agnelli è il futuro, grande salto con 300 milioni e punge Conte. Poi a centro pagina, ieri la presentazione del Giro. Sagan da capogiro, campioni e salite. Il 9 maggio via da Budapest per la prima volta ci sarà anche la star slovacca. Cairo, il giro deve essere un bene di tutti. E poi ancora Baby Boom, esposito record. Lo voleva il Paris Saint Germain e si fa sempre più largo nell'Inter. Di spalla, così no. Furia Roma, rigore al 93esimo inesistente e la VAR non c'è. Lazio, doccia scozzese, 2-1 del Celtic. Ora rischia. E quindi la prima di tutto sport che apre così Juve mondiale, soldi e nuovi CR7. ha approvato l'aumento di capitale 300 milioni, confermati 25 milioni in più in arrivo dallo sponsor. Il club pensa in grande, ne deve da mettere altri acquisti da 100 milioni. Noi siamo sempre pronti. Poi una serie di richiami, tra cui la crisi Granata. Cairo a Mazzarri e un buonissimo Toro. Uniti risaliremo. Antonioni, Riberi, Chiesa di Bala, commisso, vi dico tutto, intervista alla bandiera viola. Poi Roma infuriata, Europa League amara, rigore inventato, 1-1. Il Celtic ribalta la Lazio. Torniamo alle testate locali. Andiamo sullo sport del messaggero. Ecco qui l'apertura di pagina. Pescara, il derby di Scogna Emilio. Il difensore Campano contro il Benevento, primo della classe, sarà una partita difficile. Bisogna fare punti per restare in B e in gara. Vanno evitati cali di tensione. Siamo in difficoltà, lo dicono le nostre prestazioni, i gol subiti. Lavoriamo sodo per migliorare. Vediamo l'intervista realizzata dalla nostra emittente. Gennaro, per te quella con il Benevento non è una partita come le altre? Sicuramente è una partita difficile, però per me è un derby che sono campano e poi sono un ex, quindi sicuramente è una partita speciale, ma in questo momento non c'è tempo per pensare a queste cose. Dobbiamo pensare a fare un risultato importante. Zauri dice che questa squadra deve pensare a salvarsi. Il presidente Sebastiani non la pensa esattamente così. Scogna Emilio invece cosa dice? Io credo che una volta gli obiettivi all'inizio di stagione non hanno credito, perché comunque qualsiasi persona che affronta un campionato di Serie B il primo obiettivo è sempre la salvezza, perché magari uno se parte forte e poi dopo non arriva, quindi comunque si mantiene sempre basso. Io credo che il primo obiettivo da raggiungere è la salvezza. Dopo che abbiamo raggiunto la salvezza possiamo vedere questa squadra dove può arrivare. Sicuramente in questo momento con queste prestazioni io non posso dire che dobbiamo vincere il campionato, ci dobbiamo salvare. Però questa squadra ha delle qualità importanti che secondo me può fare qualcosa di più della salvezza. Però in questo momento è ovvio che io dico che ci dobbiamo salvare. Da difensore con questo nuovo modulo cosa ti senti di dire? Quali sono secondo te i lati positivi e quelli negativi? Ma io dico che al di là del modulo sono gli interpreti, perché quando comunque vai in campo se tu sai quello che devi fare, o che giochi a 4 o che giochi a 3. Io a Trapani giocavo 3-5-2 ma all'inizio anno ho iniziato con 4-3-1-2, quindi ci sta di cambiare, di provare anche altre soluzioni e in alcune partite si può cambiare. Però secondo me quando vai in campo tu sai cosa fare, sia che giochi a 4 che sia che giochi a 3. Ad Ascol hai giocato 3-5-2, non hai fatto un'ottima partita, però sei stato lì sempre sul pezzo, rischiando quasi mai, tranne in due occasioni, e hai portato a casa il risultato. Secondo me con lo Spezia anche il primo tempo non abbiamo fatto malissimo. Dobbiamo cancellare solo quella mezz'ora del secondo tempo, che abbiamo avuto secondo me un blackout, che non siamo proprio riusciti ad andare in avanti. Se eliminiamo quella mezz'ora e ci mettiamo qualcosina di nostro, secondo me possiamo fare bene. Se dovessi segnare sabato con il Benevento esulterai? Come dicevo anche al collega prima, secondo me quando un giocatore gioca con la sua ex squadra e fa gol, l'importante è che sia comunque un'esultanza tranquilla, perché ci sta, uno fa gol, è contento, e va a esultare con i propri tifosi, quindi sicuramente se farei gol esulto sicuramente. Sempre su fronte Pescara, Macin, le richieste, multa e patteggiamento. Oggi dovrebbe uscire la sentenza del Tribunale federale nazionale. Ecco, su questo fronte c'è una richiesta di patteggiamento che potrebbe essere accolta per Macin, potrebbe avere una multa da 3.500 euro, mentre poi Pescara ha chiesto il proscioglimento sia per quanto riguarda la società, sia per quanto riguarda il Presidente e il dipendente Falconio. In taglio basso, Sieco, vittoria che riaccende l'entusiasmo. Ovviamente parliamo di volley. Torniamo al calcio di Serie C, Teramo, grandi qualità, due vittorie e morale alto. Martignago, torre del rigore, ho calciato senza pensare. Ora la squadra si prepara per la casertana. Di Matteo Infortunato sarà fuori quattro mesi. Con il Francavilla il diavolo ha dimostrato di saper portare a casa gare difficili. Poi ancora per il rugby, l'Aquila, Marozzi, vogliamo tornare in alto. Ciclismo, Giro d'Italia, Ciccone e Nibali, coppia di successo. Il campione abruzzese Ciccone dice, felice di poter sfrecciare praticamente sotto casa. Chiudiamo con le pagine di sport del centro. Ecco qui, Serie B. Il Pescara all'esame del bunker Benevento. Sanniti, Mai, KO. Tre gol subiti. Macin patteggia, niente squalifica. Zauri deve uscire dalla crisi e per domani valuta il ritorno al 4-3. Il guineano deferito per il passaggio al Parma dovrà pagare 3.400 euro di multa. Sul fronte Benevento, fuori Armentero. Sinzaghi punta su Sau, il bomber sardo al rientro dall'inizio nel 4-4-2. Pronto l'esodo di 1.200 tifosi. Teramo, e quindi parliamo di Serie C. Teramo alla riscossa, ora due gare in casa per il definitivo decollo. Il tecnico Tedino sorride dopo il secondo colpo consecutivo. Martignago, fiducioso, vincere soffrendo un passo avanti. E poi questo episodio avvenuto tra i direttanti in seconda categoria. Botte all'arbitro squalificato fino al 2024 in seconda. Inibito Rossoni del San Marco. Stop anche al dirigente di Pampilo del Casemolino. E poi ancora per la Serie D leggiamo. Vastese, il portiere Bardini. Domenica finirà la squalifica, quindi ridotta da 5-3 la squalifica dell'estremo difensore della Vastese. Comunque salterà il match di domenica contro il Notaresco. Ciclismo, l'edizione 103 del Giro d'Italia. La San Salvo Tortoreto accenderà il Giro d'Italia. Il 19 maggio la tappa tutta abruzzese. Il via Budapest con la novità Sagan. Poi ancora andiamo a chiudere con quest'ultima pagina. Siamo al volley di A2. Simoni fissa l'obiettivo. La sieco tra le prime otto. Il capitano ortonese guarda alla trasferta di domenica a Reggio Emilia. Dobbiamo replicare la buona prova che ci ha permesso di battere Mondovì. Finiamo qui questa edizione di Mattino 6 che tornerà domani alle ore 8. Vi ricordo nel frattempo gli appuntamenti informativi con la nostra emittente. Le edizioni del TG6 delle ore 14, 19 e 23. Grazie a Loris Bennato in regia. E grazie a voi per la cortese attenzione. Buona giornata. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Siamo sulla edizione pescarese del centro che apre così. Pescare il dramma degli sfollati di Rancitelli fallito sfratto in via Rigopiano. Sotto la testata questo tristissimo fatto che ha caratterizzato la cronaca nazionale in particolare a Roma. Il ragazzo ucciso era figlio di Abruzzesi. A Roma reagisce ai banditi che lo freddono con un colpo alla testa a Montereale sotto shock. E poi ci sono le parole del sindaco di Montereale dove appunto sono originari i genitori. centro dell'Aquilano del quale sono originari i genitori dello sfortunato ragazzo. Luca, uno dei nostri, un figlio di questa terra, di gente che con grandi sacrifici è partita per Roma, ma ha lasciato qui il cuore. Così lo ricorda a Franto il sindaco Massimiliano Giorgi. Andiamo a centropagine dove c'è la fotonotizia. La raggi sfratta i pulman abruzzesi. Marsiglio si infuria da Tiburtina a Danagnina. Doccia gelata per i pendolari. E poi i richiami di cronaca. Emorragia fatale per una 17enne. Tragedia a Pineto. Muore in clinica. 15 indagati. Una 17enne di Ancarano sul Calamante. morta la notte tra l'8 e il 9 di ottobre, mentre è ricoverata nella clinica Sant'Agnese a Pineto. Una morte improvvisa sulla quale, dopo la querela contro i gnoti presentata dai genitori, la procura di Teramo ha aperto una inchiesta. Poi ancora a Pescara, paura in carcere, fuoco in cella, intossicati quattro agenti. La protesta degli avvocati. Rigopiano, il processo salta per lo sciopero. E poi ancora un paio di richiami. Pescara, i progetti del comune. Mercatini di Natale e Luminari e si parte il primo di dicembre. Per lo sport, domani il Pescara contro il Benevento. Zauri pensa di tornare al 4-3 e Macin evita la squalifica. Andiamo al buongiorno Abruzzo di Giuliano Di Tanna, la porta scorrevole di una gita scolastica. Andiamo avanti sull'edizione di Chieti Lanciano Vasto del centro. Ecco qui l'apertura dedicata alle prossime comunali al comune di Chieti. Corsa al sindaco, scontro, Lega Fratelli d'Italia. Chieti è già resa dei conti per le elezioni. Di Biase il candidato è nostro. Poi andiamo ai richiami. Siamo a Vasto, strisce fantasma e allarme pedoni in centro. Lanciano, tribunale, patto antichiusura tra 41 sindaci. Poi ancora, tornando a Chieti, i cavalli mangiano l'erba dei vicini. Finisce a processo, a Farindola. E qui siamo nel Pescarese. Così l'azienda del pecorino rinasce dopo il terremoto. La prima pagina dell'edizione terramana del centro. Muore una ragazza, 15 indagati, una 17enne di Ancarano, uccisa da un'emorragia in una clinica di Pineto. Poi i richiami, l'argomento, quello della ricostruzione, i costruttori. Il decreto sisma è da cambiare bene alcune novità, ma anche forti perplessità sul decreto sisma degli imprenditori di Terramani dell'Agnam Teramo. I costruttori chiedono modifiche per le norme sia della ricostruzione privata che pubblica. Deve essere il decreto della svolta. Non possiamo aspettare altro tempo. E poi sempre a Teramo, in 12 mesi, aperte 169 attività commerciali. Tossicia dagli Stati Uniti per ritrovare le proprie radici. E poi ancora un paio di richiami. La protesta da Tortoreto ad Albadietica. Tutti schierati contro il gasdotto. E andiamo avanti sulla edizione aquilana del centro. Che apre così Palagiapan. Altri due anni di lavori. L'Aquila struttura da 12 milioni nel mirino di una cordata per la gestione. I richiami a Villa Vallelonga. Bus disabili troppo costoso. Niente gita. All'Aquila la cronaca operaio cade dal viadotto dell'autostrada. E poi a Sulmona contro i vandali. Monumento obbligata Maiella protetto dalle telecamere. L'Aquila ha sconfitto Marola. Assemblea Fondazione Carispac. Marinelli nuovo presidente. E siamo alla prima pagina del messaggero Abruzzo. L'apertura. Bus torna il caso a Nagnina. Roma progetta il trasferimento del terminal. Ora alla Tiburtina. In agitazione i pendolari. Il governatore Marsilio scrive alla Raggi. Scelta già bloccata una volta. È improponibile. E poi ancora sanità, visite ed esami. Taglio alle viste di attesa. Andiamo sotto la testata del messaggero Abruzzo. L'Aquila. I padiglioni a Bazzano. In addirittura ad arrivo il polo fieristico. Terremoto. Nessuna opera nel decreto. Teramo prepara la protesta. E poi lo sport pescara. Il derby di Scogna Emilio. Necessari punti per restare in B. Siamo in difficoltà. Lo dicono le nostre prestazioni. I gol subiti. Come affrontare la gara? Indispensabile. Evitare cali di tensione. E poi di spalla. Il caso Treni. Si sale con sconti di gruppo e ticket gratis. Il piano delle ferrovie dello Stato applicato per la prima volta in Abruzzo. In taglio medio intanto la fotonotizia Ateneo. All'ex Cofa si decide a Setti Urbani. La maxi operazione. Sempre in taglio medio. Siamo alla cronaca fatale. L'intervento alla gola. Indagati medici e infermieri. La ragazza era stata sottoposta a tracheotomia. 15 avvisi di garanzia. L'annuncio shock. Spunta il cartello. Non si affitta agli stranieri. E poi ancora sul fronte giustizia a Rigopiano. Nuovo rinvio per lo sciopero dei legali. In taglio basso. Pentito di estro. I quadri del boss. Espone Mutolo. Andiamo alla prima pagina della città. Il quotidiano della provincia di Teramo. Che apre così. Banca del Sud. Sogno possibile. Il presidente di Banca Popolare di Bari. Gianvito Giannelli. Ospite al convegno dell'Unité. Andiamo sotto la testata. Minore affidato ad una struttura protetta. Il padre disperato ai giudici. Non toglietemi mio figlio. Fronte erosione. D'Annuntis. Mette pace tra i comuni costieri. Scendiamo a centropagina. Dove c'è la foto notizia. Teramo Rogodoloso. All'azienda agricola modello di Ponzano. C'è la mano di un incendiario. Scrive appunto la città. E poi ancora un paio di richiami. Sociale caregiver. Via libera ai fondi per le famiglie. A Roseto degli Abruzzi. Iniziati i saldi per i beni del comune. E poi il caso a Giulianova di questi giorni. La Lega si spacca sul ritiro del ricorso al Tar. Ballottaggio di Giulianova. Teramo critico sulla decisione di Tribuiani. In taglio basso il dibattito. Goldrake occhio agli architetti. E poi Teramo cimiteri frazionali abbandonati tra guano di piccione e inagibilità. Lasciamo i quotidiani locali. Andiamo ai nazionali. Andiamo sulla prima pagina del Corriere della Sera. E iniziamo dunque questa parentesi dedicata appunto alle prime pagine delle testate principali nazionali. Ecco qui il Corriere della Sera con il fatto di cronaca che ha funestato la giornata di ieri a Roma. Luca ucciso per uno zainetto. Scontro politico. Salvini accusa del governo. Non c'è sicurezza. Conte miserabile speculare su una tragedia. Aveva 24 anni. Difendeva la ragazza. Lei un colpo ed era a terra. Caccia a due italiani. Sotto la testata. Ciclismo svelato. Il Giro d'Italia. Si parte da Budapest. E poi scendiamo di spalla. Leggiamo il saluto di Draghi. Lascio la BCE. Non ho rimpianti. Il mio futuro. Chiedete a mia moglie. Poi ancora parla il ministro Provenzano. Accordi per l'Ilva. Lo scudo legale esiste. Gran Bretagna deciderà il Parlamento. Brexit. Johnson ci riprova. Chiesto il voto anticipato. E a centro pagina c'è la fotonotizia. Io, maestra Di Leo, proverò sempre dolore. Oggi i funerali del bimbo morto in una scuola di Milano. La prima pagina di Repubblica. Roma disperata. Luca ucciso a 24 anni per un gesto di coraggio. Ha difeso la fidanzata dallo scippo fuori da un pub. Colpito alla testa. In fuga lo sparatore e il suo complice. In città aumentano rapine e aggressioni. Una violenza legata soprattutto al mercato della droga. Salvini all'attacco. Conte miserabile speculazione. E poi di spalla l'articolo di Roberto Saviano. La guerra di Erdogan con i kurdi abbiamo perso anche noi. E poi ancora in taglio medio il ministro e il caso Ilva. Provenzano senza l'industria. Il sud non esiste più. In taglio basso BCE l'addio di Draghi. Il futuro chiedete a mia moglie. Andiamo sulla prima pagina del messaggero. Ovviamente anche in questo caso fare i puntati sull'omicidio di ieri a Roma. L'omicidio che scuote Roma. Difende la ragazza da uno scippo ucciso a 24 anni con un colpo alla nuca. L'aggressione davanti a un pub. Conte Salvini è scontro sulla sicurezza. A sparare due italiani fuggiti a bordo di una Smart. avevano anche un bastone. Andiamo sotto la testata dove si parla di calcio e di Europa League. Roma beffata. Rigore fantasma. Salva il Borussia al 95esimo. 1-1. La Lazio spreca. Il Celtic vince 2-1. Di spalla. Oggi la protesta. Bus, rifiuti, scuole, sciopero. Capitale contro la Raggi. Scendiamo in taglio medio. L'addio di Draghi. Nessun rimpianto ma sulla crescita. Ora tocca ai governi il bilancio di 8 anni alla guida della BCE. E poi in taglio basso. Domenica le regionali. Di Maio. Zingaretti e Premier in Umbria. Ma Renzi non c'è. Andiamo ora sulla prima pagina del mattino. Ecco l'apertura. Napoli. Carceri fuori controllo. L'allarme del procuratore Melillo. Entrano troppi telefonini. Le celle sono piazze di spaccio. L'inferno. Poggio reale. 800 detenuti oltre alla capienza. Sommosse per la PTV. E il giallo evasione. Sotto la testata. La spy story. Il Russia Gate. De Noantri. La fata di Caserta. Il prof. Sparito. E il greco. Andiamo in taglio medio. Roma violenta. Ricercati due italiani. Ammazzato per difendere la fidanzata da uno scippo. E poi ancora l'addio di Draghi. Ho fatto di tutto. Ma restano i rischi. Il passaggio di consegne. Inizia l'era della Lagar. Non ho rimpianti. Il futuro. Chiedete a mia moglie. Andiamo sulla prima pagina del tempo. Ecco qui. L'apertura. Studenti a casa. E addio traffico. Alla festa del tempo. La Raggi svela il suo piano anti-ingorghi. Lezioni universitarie. Dalle 10 in poi. Scendendo in taglio medio. Colpo di pistola in testa fuori dal pub. Ucciso a 24 anni davanti alla ragazzo. Giallo alla Caffarella. Tentata rapina. Finisce in tragedia. Caccia due uomini. Ma nella ricostruzione ci sono diversi punti da chiarire. Il tempo di Osho. Dedicato alla politica di Maio e Zingaretti. Costretti alla foto di coppia. E poi ancora sullo sciopero odierno a Roma si fermano i dipendenti di tutte le municipalizzate. Capitale paralizzata dal mega sciopero romani. Oggi è meglio stare a casa. Andiamo sulla prima pagina della stampa che apre con le parole di Salvini. Il leader della Lega. Umbria trappola per Conte. Partiti di governo per la prima volta insieme a un comizio. Marenzi non raccoglie l'invito di Di Maio. Intervista alle leader del Carroccio. Premier nel panico. Manovra. Spunta una clausola. Salva Conti. Andiamo sulla fotonotizia. Difende la fidanzata dallo scippo. Ucciso con un colpo in testa. Ancora la vicenda dello sfortunato Luca Sacchi. Il 24enne di Roma. Ma come abbiamo visto con i genitori originari dell'Aquilano. Il manifesto. Ecco qui l'apertura. Il porto delle Enebbi al Parlamento europeo. Passa il no alla riapertura dei porti alle ONG. La risoluzione del centro-sinistra e dei Verdi era espinta per due voti decisivi. Quattro socialisti che votano contro l'astenzione dei Cinque Stelle. Grillini a difesa dei decreti sicurezza di Salvini che intanto producono nuovi clandestini. Andiamo sotto la testata. Umbria. Palco giallorosso senza Renzi. Oggi Di Maio, Zingaretti e Speranza. Narni. C'è anche il Premier. Il leader di Italia Viva. No. La prima pagina del secolo che apre così con funerale rosso. In Umbria oggi il Premier. Conte va a vendersi il decreto terremoto ma il popolo non lo compri. Tre richiami a fondo pagina. Meloni in tour in Umbria. Lunedì la sinistra a casa. Porti aperti alle ONG. Anche Strasburgo dice no. Omicidio di Luca Sacchi ha difeso la fidanzata. La prima pagina di Libero. Unico settore in crescita. Il governo gongola. Le pompe funebri guadagnano 650.000 morti l'anno. Il fatturato delle aziende funerari è salito del 23% e vale 2 miliardi. Il business del caro istinto dà lavoro a 50.000 persone. Eppure la criminalità punta sui defunti. In taglio medio la foto notizia. Nuovo bersaglio progressista. La Meloni. Querela Repubblica. Su di me soltanto balle. E poi per parlare di televisione. Appena 230.000 spettatori. Il flop della Bignardi. In tv lei non tira più. Andiamo sulla prima del fatto quotidiano. Che apre così il vilipendio di cadavere. Roma. Giovane. Difende la fidanzata scippata. E viene ucciso per Salvini. È colpa del governo. Lo sciacallo. Scrive il fatto. Riferendosi proprio alle parole di Salvini. E poi ancora il capo leghista. La città insicura per i tagli del conte 2. Che non esistono. I tagli alle forze dell'ordine. Li fecero Berlusconi. Berlusconi e Lega. Andiamo a vedere i due richiami sotto la testata. Insieme i tre giallorosa fanno outing per l'Umbria. La prima volta di Conte, Di Maio e Zingaretti. La nuova coalizione oggi a Narni. Sullo stesso palco. Il capo 5 Stelle. Quello che nelle urne rischia di più. Ha voluto che tutti ci mettessero la faccia. Infatti l'unico che ha detto no. È il presunto alleato Matteo Renzi. E poi ad Arezzo. Via Rossi. Consulente dei governi del PD. Il CSM dopo 4 anni caccia il PM di Etruria. Roberto Rossi non è stato riconfermato. La decisione del plenum ha compromesso sotto il profilo dell'immagine il necessario requisito dell'indipendenza da impropri condizionamenti. Si legge nella relazione di Davigo. E proseguiamo. Siamo sulla prima pagina della verità. Domenica al voto in 700 mila. Una mancia elettorale da 14 milioni ai dipendenti della regione Umbria. Premi e indennità. Pioggia un migliaio di persone poco prima dell'apertura delle urne. Dopo lo scandalo sanità che ha travolto la giunta rossa. I sondaggi vedono favorito il centro-destra contro l'inciucio PD 5 Stelle. Il bonus bebè del governo nasce col trucco vincolato ai nidi oltre metà importo. La fotonotizia Scalfari riscrive il suo passato da fascista con molta fantasia. In taglio medio il Copasir non chiude il caso Conte 007. Le spiegazioni del Premier non hanno convinto i commissari. Assai irritati anche dall'anomala conferenza stampa usata per attaccare Salvini. Sarà sentito il capo del dis Gennaro Becchione. Andiamo sulla prima pagina del Sole 24 ore. L'apertura. Detrazioni più tasse per i redditi alti. Ecco qui verso la manovra. Interessati circa 300 mila contribuenti che dichiarano più di 120 mila euro all'anno. Oltre questa soglia gli sconti IRPEF del 19% saranno azzerati progressivamente. In taglio medio BION falsificato anche il piano industriale 2017-2020. La procura ha mercato inondato di informazioni su contratti inesistenti. E poi la fotonotizia. Ecco qui porti turistici e rincaro degli oneri demaniali. Canoni troppo alti. 24 marine a rischio. E andiamo a chiudere con la prima pagina dell'Avvenire che apre così manovra. Si riparte da bibite, plastica e web. 2 miliardi di tasse meno detrazioni da 120 mila euro. Sanzioni ai commercianti che non acquisiscono il codice fiscale per la lotteria. E poi ancora la presenza delle donne nei CDA. Quoterosa da rilanciare. La legge ha funzionato ma va rinnovata e potenziata. E poi ancora la fotonotizia. E si parla di sanità. La battaglia vinta all'Apoglio. E' radicati due ecceppi. L'OMS, l'Organizzazione Mondiale per la Sanità. La vaccinazione di massa ha permesso di sconfiggere quasi del tutto la malattia. Resta ancora una tipologia endemica in Asia. E possiamo chiudere qui la parentesi legata ai quotidiani nazionali. Torniamo a quelli locali, a quelli che raccontano la cronaca d'Abruzzo. E siamo sul centro. Ecco qui, pagina 2. Operazione Verità. Giannelli, obiettivo grande Banca del Sud. Teramo, il presidente della Popolare di Bari, fa chiarezza sul salvataggio Terca Scaripe sul futuro del polo creditizio. Poi in basso, il rettore presenta il nuovo corso di laurea nel giorno dedicato alla banca. Mastrocola lancia il progetto a cavallo tra economia e giurisprudenza. Pagina 3. Si parla del mondo delle imprese, gli aiuti alle imprese. Così l'azienda del pecorino rinasce dopo il terremoto. Enel e Legambiente scelgono la Martinelli di Farindola per un progetto pilota. La crescita a due anni da grande sciocchi, finanziata grazie ad una azione collettiva. E poi ancora in taglio basso, l'Abruzzo delle Meraviglie e Anna Velli. Domenica la festa dei 23 borghi, ciascuno avrà 150 mila euro. Le novità tra l'Italia e l'Abruzzo, sconti agli studenti e nuovi abbonamenti. Pagina 7. Con la beffa per migliaia di pendolari, terminal sfrattato, la rabbia di Marsiglio, i pullman da Tiburtina alla Nagnina. La Raggi ci riprova, il governatore di centrodestra si scaglia contro la sindaca di Roma. E poi ancora, pagina Abruzzo, argomento sanità. Verì illustra il piano nelle quattro asle contro le liste d'attesa. Ha a disposizione un budget aggiuntivo di 2 milioni di euro. L'assessore, gettate le basi per risolvere il problema. In taglio medio, politiche sociali. L'assessore regionale Piero Fioretti dice ecco 440 mila euro per le famiglie caregiver. Andiamo avanti, siamo sulla cronaca di Pescara, le pagine di Pescara con gli sgomberati di Via Lago di Borgiano. Da 27 mesi prigionieri in hotel, gli sfollati ancora senza una casa. La protezione civile paga agli hotel 40 euro al giorno per vitto e alloggio, oltre 27 mila euro al mese. Comune e Ater hanno proposto le abitazioni tolte agli abusivi a Rancitelli, ma la soluzione non piace. E poi ancora, taglio basso in Via Rigopiano. Lo sfratto finisce in un flop. Pettinari dei 5 Stelle serve un posto fisso di polizia. L'abusivo, i miei figli stanno male, ma andrò via. Allarme sovraffollamento. Questo carcere, fiamme nella cella, 4 agenti restano intossicati. Detenuto da fuoco alle lenzuola. I sindacati, il Sandonato scoppia di detenuti. Poi le parole di Rignanese del Sappe, di Nardella della Will. Rignanese, solo il pronto intervento del personale penitenziario ha evitato il peggio, ma siamo sotto pressione e spaventati dalle tante aggressioni. Nardella aggiunge, Pescara è tra le carceri più in sovrannumero d'Italia. C'è un solo psicologo per 300 pazienti tra tossici e psichiatrici. Proseguiamo. Siamo alla giustizia. Rigopiano, il processo salta ancora. Gli avvocati, è giusto scioperare. L'udienza preliminare in programma stamani sarà rinviata al 29 di novembre per la protesta dei legali contro le norme sulla prescrizione, ma i parenti delle vittime saranno ugualmente presenti in tribunale. Per la cronaca, via Verrotti, rissa dopo il tamponamento, coinvolte coppie di Pescara e una dell'Aquila, in auto anche dei minori, in ospedale per accertamenti. Poi in taglio medio, appuntamento oggi in Questura e Comune, monumento a Falcone e Borsellino, e incontro sulla legalità con i ragazzi. Tutto appunto nell'ambito del premio Borsellino. All'alberghiero gli studenti incontrano l'imprenditore Leonardo, vittima della camorra. Andiamo avanti. Siamo sempre a Pescara. Asili comunali senza posti. 42 bimbi accolti dai privati. L'amministrazione ha stipulato una nuova convenzione con 13 scuole accreditate. Accettate tutte le richieste di iscrizione, ma 80 piccoli sono rimasti in lista d'attesa. In taglio medio, Università, nell'ex cofa, il PD boccia il piano. I consiglieri di centro-sinistra contro la proposta della Giunta. Quell'area ha una vocazione turistica. Vediamo il servizio del Tg6. Consigliera Sclocco, ma a chi converrebbe avere una nuova sede dell'Università a Pescara, qui nelle aree ex cofa? Sicuramente non alla città di Pescara. Converrebbe probabilmente alla Regione, che avrebbe gli spazi di Viale Pindaro liberati, e quindi potrebbe avere la sede regionale tutta insieme lì. Converrebbe probabilmente all'Università, perché qui avrebbe delle strutture nuove, ma noi sappiamo che gli studenti universitari si iscrivono all'Università per la qualità degli studi, degli insegnamenti, e non perché è di fronte al mare. A Pescara non conviene. Qual è la convenienza per la città di Pescara? Zero. Nessuna convenienza, a meno che non ci sono convenienze che noi non sappiamo, non ci vengono in mente, e che secondo invece il sindaco Masci ci sarebbero. Questa è un'area a vocazione turistica. È l'unico pezzo di terra nella città di Pescara ancora libero davanti al mare. Mettere l'Università significa bloccare l'afflusso turistico. È necessario che questa zona sia faccia da cerniera tra la Riviera Sud e la Riviera Nord, accanto al porto turistico. Quindi è necessario fare progetti che portino un indotto a Pescara turisticamente, commercialmente, in modo da far sì che ci sia un plus. L'Università di fatto blocca. L'Università non porterebbe niente, perché, ripeto, gli studenti si iscrivono ad un'Università perché vale l'Università e non perché davanti al mare. Per cui non riusciamo a capire quali siano gli interessi del sindaco Masci e la convenienza per una città come Pescara. Sempre sul centro, sempre sulle pagine di Pescara, mercatini e luci di Natale al via dal primo dicembre. L'assessore cremonese quest'anno le iniziative per le feste partiranno prima sia al villaggio dei bambini a Piazza Salotto, ma per Capodanno e tutto in alto mare. E poi, per quanto riguarda il Kiwanis, Lattanzio è il nuovo presidente. Proseguiamo e siamo alle pagine di Montesilvano. Per il monumento in Largo Venezuela, otto artisti in concorso, progetti in mostra alla Fondazione Zimei. Il 9 novembre, il vincitore sarà scelto da una giuria tecnica e dai visitatori, il direttore artistico Scudieri. Abbiamo ricevuto proposte che abbracciano tutti i linguaggi, dal piccolo padiglione all'intervento sonoro, a quello luminoso, con giochi d'acqua. E poi di spalla, da domenica, il servizio al cimitero, carrozzelle volontari per anziani e disabili. Andiamo avanti, siamo a Città Sant'Angelo, la notte bianca del liceo spaventa. I docenti di economia dell'università, oggi pomeriggio, incontrano allievi e prof dell'istituto. E poi di spalla, questa mattina a Montesilvano, all'Alessandrini c'è Don Mattia, il prete dei migranti. Proseguiamo, siamo a Francavilla al mare, sicurezza, la Lega chiede le telecamere. Luciani, ci sono già la mozione di Mantini e Paolini, martedì in consiglio. Il sindaco no alla politica della paura, la città è sorvegliata. Poi ancora, in Val Pescara, a Letto Manoppello, solo due maestre di sostegno per sette bambini disabili. La protesta delle mamme, personale richiesto dall'ufficio scolastico da luglio, ma oggi forse potrebbe arrivare l'assegnazione delle ore di assistenza in più. E ora le pagine di Chieti. argomento sono le elezioni comunali dei prossimi mesi. Corsa a sindaco, scontro aperto tra Fratelli d'Italia e Lega, resa dei conti nel centro-destra. Di Biase di Fratelli d'Italia lancia la sfida. Puntiamo a un candidato con la nostra spilletta. Saremo protagonisti. Trattativo in corso nel partito di Salvini. Due ipotesi sul tavolo. l'ex parlamentare di Stefano o D'Aloisio. Poi ancora il Renziano Marzoli. Fonda il gruppo di Italia Viva. Todisco e Dilizio vanno con la Meloni. Due nuovi ingressi. Tavani siamo una famiglia inclusiva. Andiamo avanti. Sempre a Chieti. La lite arriva in tribunale. Il caso appunto a Chieti. I cavalli mangiano l'erba dei vicini. L'imprenditrice finisce sotto processo. Gli animali al pascolo nel terreno di un'azienda distante pochi metri dalla fattoria dell'imputata. Lei di origini americane si difende. Quando sono successi i fatti ero tornata negli Stati Uniti. Un dettaglio medio. Picchia la compagna mentre guida. Nei guai. Divieto di avvicinamento per un 42enne che è perseguita dalla ex. Valanga di SMS e pedinamenti. Andiamo ora sulle pagine di Teramo con questo dramma che si è consumato nei giorni scorsi. Al via l'inchiesta muore a 17 anni in clinica. 15 indagati. La procura apre un fascicolo con 15 persone nei guai tra medici e infermieri di tre strutture sanitarie tra Abruzzo e Marche. La ragazza era stata ricoverata a luglio nell'ospedale di Ascoli e poi in quello di San Benedetto. Da settembre si trovava al Sant'Agnese di Pineto. Oggi i funerali nel capoluogo marchigiano. Le indagini sono scattate dopo la denuncia querela presentata dalla famiglia dell'adolescente. Eseguita l'autopsia affidata al medico legale Donatella Fedeli. Andiamo avanti. Siamo ad Atri, discarica comune alla regione si opponga all'ampliamento. Atri, dopo il veto del comitato via l'assessore Centorame sollecita una conferenza dei servizi. Il consorzio ha preannunciato delle contradduzioni ma il confronto deve avvenire subito. E poi ancora a Pineto un canale contro gli allagamenti. L'annuncio dell'opera nell'incontro con i cittadini di Scerne. Il sindaco sarà costruito sul lato collina. Andiamo a chiudere con le due pagine dell'Aquila. Ricostruzione l'opera da 12 milioni. Pala Japan altri due anni di lavori ma c'è il problema della gestione. L'assessore Fabrizi stiamo per appaltare il secondo e spero ultimo lotto per chiudere il cantiere. Una cordata di imprenditori potrebbe gestire la struttura e trasformarla da sportiva in polivalente. E poi ancora il caso a Villa Vallelonga. Il bus di Sabiri costa troppo, niente gita. Lettera del bambino ai compagni. Mi dispiace per colpa mia non si fa il viaggio. Il preside replica. L'alunno non c'entra. E poi ancora l'Aquila operaio cade dal viadotto della 24. Incidente sul lavoro 64enne di San Valentino ricoverato in ospedale. E chiudiamo con quest'ultima notizia in taglio medio sulla pagina. Borsa di studio parete a un sulmonese a Varrati. Il premio dedicato alla memoria del pescarese di Abbateggio. Sopravvissuto alla Shoah. Noi ci fermiamo per qualche minuto. Diamo ora la linea alle previsioni meteo e poi alla pubblicità. Poi rientriamo per leggere le pagine del messaggero, della città, lo sport e altri servizi. Grazie a tutti.